E' già calato del 20% il consumo di carne a livello nazionale dopo la notizia della cosiddetta fettina assassina che ha messo KO la carne rossa sugli scaffali. Siamo andati allora a capire se questo cambia anche le abitudini delle famiglie ed in particolare di quelle aretine. Uno storico commerciante aretino ci conferma che l'allarme c'è, ma che il consumatore attento può comunque comprare carne in tutta tranquillità. L'allarme è bene, non ha fatto sicuro parlare come hanno parlato, hanno un po' messo la gente a pensarla. La paura viene da altri posti, non viene qui dalla zona nostra. La Toscana non si tocca? No, non si tocca perché si alleva bene, siamo gente, almeno sono gente seria, gente che non avrebbe nemmeno le capacità di truccare la merce come direbbero loro. I piccioli sono le Casentino, le Faraone sono del sodo di Cortona, l'anatre sono dalla Valle di Chiana, eccetera, e questo è il chilometro zero. Quando il prezzo è troppo basso, che cosa significa secondo lei? Io ho paura, di un prezzo basso, basso, basso ho paura. La roba deve avere il suo prezzo, la roba deve essere di prima scelta ma deve avere il suo prezzo. Io personalmente ho paura, poi la gente faccia come vuole, la compri, faccia come vuole, ma io ho paura. La sua politica dei prezzi qual è? La mia dovesse giusta dei prezzi, per l'amor di Dio, tirati, guardati, ma non scandalosi. Scandalosi c'è da avere paura che a comprarla. La mia dovesse giusta di QTSS Grazie a tutti